Quando penso alla mia filiale penso casa, confort, flessibilità di orario, una cosa efficiente, semplice e funzionale, capacità di sintesi dei prodotti che mi servono. Nella mia filiale cerco persone vere, di sentirmi una persona e non un numero, professionalità, serietà, persone che sappia rispondere alle mie domande in maniera semplice, spero che sia il più efficiente possibile, come gestire i miei soldi, come investirli, è accesso al credito facilitato. Mi piacerebbe che in tutte le filiali ci sia la possibilità di versare soldi, con organizzazioni di viaggi, piuttosto che acquisti di articoli un po' più particolari. Potrebbero essere eventi, mostre. Un internet point, potrebbe essere una buonissima cosa. Il wifi e magari dei dimeniti un po' più comodi. Si può pensare sicuramente alla filiale come un luogo di incontro, di network. Un punto di scambio, un punto di ritrovo addirittura. Ripensare a un ambiente un po' più familiare, meno asettico, per sentirsi a casa propria. Oggi le persone vogliono uno spazio differente. Un luogo in cui le nuove esigenze trovino risposta. Un luogo in cui sia normale essere accolti come a casa. Un luogo in cui strumenti e servizi siano connessi tra loro. Lo stesso che vogliamo realizzare noi, ogni giorno.